Musica Non amo ti piglio Capisci? Ja, io capisco oh per caso tu ce l'hai attivato il fatto che quando uno fa i video si sente la voce quando uno fa i video si sente la tua voce ce l'hai attivato adesso consenti non fare non senti non ce l'ho qua inserimento tra 5 secondi ben fatto il contenitore di più rischio è stato individuato vado eh vado con il miro a modo di raggiungo e perdi scommetto che tu siano messi il suo tattico quando ci vuoi scommetto ma non ce l'ho la granata ah bravo nasconditi eh te lo consiglio no 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 non puoi non puoi ma non puoi si che li posso rompere no ti ho detto di no non posso rompere i fili spinati ma è la cosa che li fai elettrizzare si eh ho fatto il cavo elettrizzato prima ti ho detto che non li potevo rompere eh ho detto il cavo non lo puoi rompere vado eh adesso hanno dei contratti eh sì quanto lo so come ti rimetti di nuovo camera fa di nuovo la stessa tattica vedo ovviamente l'operatore con due di velocità sarà impossibile vabbè comunque l'obiettivo sta di nuovo giù ci sono dei rumori mi sono da stessa tattica perverò quanto dei rumori da fuori Tu che ti sei messo? Che manco Ah Io veramente ti faccio scoppiare il muro, ho pronto il muro Si che mi posso muovere No, no, dico tu non puoi andare giù Si che posso andare giù Eh vabbè è impossibile, poi non posso fare niente Posso mettere una claimer? No, non lo puoi mettere Però adesso non ti puoi muovere perché poi non ti torna Eh volevi? Eh Pensavi Tu pensi? No mio dio Siii Ah 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 No Eh no No mi è preso Ah con culo No 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 Ma sono stato un co***o non ci sei riuscito Dovevi andare più lontano e poi scendere lì No pensavo che non eri così intelligente da Capito? Che cosa c'è la tua chiama? Ah Trovate il contenitore di Dio Orecchio Tu non puoi entrare E tu chi c'hai? Eh boh Chi c'hai? Non mi ricordo come si chiama Oh non puoi entrare con il drone Eh non sto con il drone Eh allora che cacchio è sta cosa che si muove Che cosa? Senti tale e quale Senti tale e quale che c'è il drone Ma vanno male Vedi che non c'è questo drone Eh che è sta cosa qua No dove potete distruggere Ma c'è questo drone? Nooo Non ti preoccupare Guarda non c'è nessun drone Io ti posso uccidere con le granate? No Sì Oh Eh ciao Chiudo Scusate lei Scusate Scusate Aiuto Ma che c'è questo Quello Ah ho capito Se almeno se scendo Tu vai direttamente da là Dai vieni vieni No No Invece Ma Mi sono Scusate 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 questo è un po' di oggi eee eee emm oh ooo ooo eee eee mamma ho fatto malissimo ti amo che ti fai no no ahahahah ti distrai con il drone coglione ahahah ahahah ma perchè dice io mamma che mi avevo il cesso dentro il piede praticamente che significa che significa il cesso dentro il piede che significa il cesso dentro il piede che significa il cesso dentro il piede no il cesso la fascia perchè ok io mi ero grattato si è fatta si è fatta si è fatta allora mia madre mi ha messo la fascia tra fila un po' di fascia dentro dentro l'anno ha dovuto tolgere mi diceva male ah oh oh dopo questo allora non me la devo andare più perchè ormai ormai perchè ormai l'ho fatto che cosa questo doveva tagliare la fascia per questo mi ha detto come me la devo andare ah tu sai ma mi ha risposto ah questo non mi ha detto se vuole giocare le porte ah mmm che cacchio fai con quel cacchio oh prima di uccidermi facciamo altri periodifici no perchè dai per questo la posizione dei contenitori di più rieschio ah aiuto come aiuto perchè perchè non si può saltare che significa che non si può saltare? per esempio perchè non si può saltare adesso di sparo con l'arma di goc aiuto ahahah perchè ho vinto perchè? 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 tu ti metti in operatore con il 9 di velocità certo hai recuperato 10 secondi i win vabbè comunque stavo facendo un video si oh dai e poi direi domani quando si carica Io ho quanti like, 8 miliardi, vabbè niente, devo notare il 50% di connessione, manutenzione pedificata, come? Manutenzione pedificata, effetturemo la manutenzione pedificata tra 50 minuti, ho detto all'anno di questo video, ci ho messo un'ora per leggere due righe, vabbè, comunque, bella, dura un'ora.